E' uno dei più affermati violoncellisti classici in circolazione, ma per il suo ultimo album Yo-Yo Ma ha abbandonato Bach per il bluegrass, la musica tradizionale dell'America Bianca. Per incidere The Goat Rodeo Sessions ha voluto il meglio del bluegrass giovane, Edgar Mayer al basso, Stuart Duncan al violino e Chris Tyle al mandolino. Penso che abbiamo tutti un ottimo intuito e questa è una caratteristica tipica dei buoni musicisti. Significa saper usare la parte analitica del cervello insieme a quella emotiva. Quanto più si usano insieme, tanto più si diventa bravi come musicisti e penso che qui siamo tutti piuttosto portati ad usare queste due parti del cervello. Goat Rodeo, l'espressione contenuta nel titolo, descrive una situazione in cui ogni cosa deve andare per il verso giusto affinché il meccanismo non si inceppi. L'album è uscito il 24 ottobre. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.